A febbraio 2022 la firma dell'accordo di programma tra i comuni di Padova, Rubano e Vigonza ha un anno esatto alla presentazione del progetto definitivo della linea SIR2. È una corsa contro il tempo, quella che vede le tre amministrazioni coinvolte con APS impegnate nella realizzazione del collegamento tra Rubano e Vigonza. Un progetto, quello presentato, frutto di un intenso confronto con i cittadini. Abbiamo recepito molte istanze che sono arrivate dai cittadini attraverso il percorso di dibattito pubblico che abbiamo effettuato l'anno scorso. Quindi alcuni miglioramenti in stazione nei due comuni Vigonza e Rubano ma anche in via Chiesa Nuova dove sarà previsto un parcheggio di assestamento per coloro che non abitano sulla linea del tram come ad esempio i quartieri di Cave o Selvazzano e Corso Milano. Abbiamo mantenuto la gran parte dei parcheggi a servizio del commercio e unito la pista ciclabile che sarà quindi una pista bidirezionale sul lato sud. Anche a Rubano molte le modifiche apportate. Rispetto allo studio di fattibilità tecnico-economica abbiamo portato una sostanziale modifica al percorso in prossimità del capolinea perché le rotaie non entreranno nel quartiere come era stato preventivamente pensato ma correranno parallele alla statale 11. Poi durante tutto il percorso perché ricordo che il tracciato percorre il comune di Rubano da est a ovest nella sua totalità abbiamo inserito delle rotatorie che inizialmente non erano previste per agevolare i flussi di traffico e le inversioni di marcia. Se il tram rubano avrà il suo capolinea quasi confini con Mestrino, ultimo comune lungo la strada regionale 11 prima della provincia di Vicenza, rispetto all'accordo iniziale il comune di Vigonza ha chiesto l'allungamento della linea nelle frazioni di Busa, Perarolo e Capriccio a ridosso dei confini con il comune di Stra e quindi con la provincia di Venezia. In un'ottica di collegare la provincia di Venezia e quindi tutta l'area della rivera del Brenta con Rubano e Padova ovviamente. Quindi non si va al ribasso ma si rilancia addirittura. La linea si allungherebbe di circa due chilometri per un costo di 25 milioni di euro. L'iter è partito appunto con la richiesta del comune di Vigonza, mi preme sottolineare frutto di un lavoro di confronto con Padova e quindi una richiesta concordata con cui si partirà con la fattibilità, il progetto di fattibilità e poi con la richiesta di aumento del finanziamento per la realizzazione dell'opera al Ministero.